e buonanotte ragazzi sono tegra con il mangio sempre sono con il suo video è sempre sul tool manager anche quest'oggi vi andrò a mostrare un taxi test che ho effettuato all'interno di football manager 2022 più precisamente oggi vi dimostrerò che miles ha mentito a chiunque perché farò vedere che effettivamente il game press specie con il 4231 continua a funzionare molto bene all'interno del gioco come sempre per tutte le regole in atto nei metà di test vi rimando al primo video che è il 343 bulldozer dove nei primi tre minuti vi spiego in cosa consiste questa serie noi come sempre partiamo vuol vedere le statistiche dei calciatori sto utilizzando il bayern perché per caratteristiche penso fosse la squadra più in grado di soddisfare le esigenze di questo modulo avendo le ruote aggiornate possiamo vedere che sadio mané è stato il capo canoniere della nostra stagione con 32 gol fatti e 11 assist in 33 presenza titolare e sei da subentrato chi ha ottenuto il voto medio più alto è le ruote sane con 7,64 avendo fatto 24 gol e 13 assist in 31 presenza titolare e sei da subentrato chi mi conosce sa quanto io ami alla follia questo calciatore su fm tant'è che è fuori di testa ogni anno che ha ottenuto il maggior numero di assist è joshua kimmich con 15 assist e due gol in 35 presenza titolare e 9 da subentrato matais de ligt è stato il calciatore che ha realizzato la miglior percentuale di passaggi completati pari al 98 per cento le ruote sane è stato eletto otto volte uomo partita quindi più di tutti i suoi compagni da iopa meccano ha ottenuto ben 19 munizioni più di ogni altro calciatore del bayern e in più sabitz era stato espulso due volte parlando della classifica ovviamente abbiamo vinto il campionato con 80 punti ben 17 sopra il red bull ipsa che si è piazzato secondo in 34 partite ne abbiamo vinte 25 ne abbiamo pareggiate 5 e ne avevamo perse 4 facendo 109 gol quindi siamo per distacco il miglior attacco e subendo 25 gol quindi miglior difesa a pari merito con il mainz differenza reti quindi di 84 per quanto riguarda le altre competizioni possiamo vedere che in champions league siamo usciti sconfitti in finale di champions contro il liverpool per tra due subendo un gol al cento ventunesimo nella coppa tedesca quindi la dfb pocal siamo stati eliminati in semifinale contro l'erta di berlino mentre la supercoppa quindi la dfl super cup l'abbiamo portata a casa c'è anche da dire che nelle ultime partite avendo messo già in chiave il campionato per concentrarmi nel cammino in champions ho fatto veramente turnover tant'è che in diverse partite ho schierato sostanzialmente la primavera della del bayern arriviamo a parlare della tattica come anticipato prima è un 4231 gegen press ripercorriamo quindi la scia dei passati fm dove la combinazione gegen press più 4231 era quella che funzionava meglio in parte è comprensibile perché il 4231 è sostanzialmente uno dei moduli più utilizzati nel calcio giocato in real life così come il gegen press è una filosofia che si sta espanendo sempre di più rispetto a quanto riguardava gli anni 90 dove era solo in fase embrionale analizzando quindi questo modulo possiamo vedere che in porta abbiamo un portiere con i compiti difensivi senza alcuna istruzione aggiuntiva lateralmente i due terzini sono terzini semplici con compiti di supporto entrambi con le stesse istruzioni ovvero correre più rischi crossare più spesso dribblare di più andare avanti appena possibile e fare contrasti più duri quindi sono dei terzini che comunque tendono a creare superiorità numerica sulle fasce supportando così la manovra offensiva centralmente abbiamo un doppio difensore centrale entrambi con i compiti difensivi entrambi con le stesse istruzioni ovvero quello di fare meno pressing fare contrasti più duri e marcatura stretta centralmente i due mediani se possiamo definirli così sono due centrocampisti centrali con i compiti di supporto che quindi sono dei calciatori che devono svolgere il compito classico di un centrocampista quindi bene o male fare sostanzialmente tutto quello che c'è da fare anche qui tutte e due hanno le stesse istruzioni ovvero fare passaggi diretti dribblare di più tirare di meno muoversi negli spazi fare contrasti più duri e marcatura stretta la davanti abbiamo doppio attaccante esterno che quest'anno funziona molto bene su fm 22 anche qui stesse istruzioni per entrambi i calciatori ovvero tirare di più libertà di movimento stare più largo contrasti più duri e marcatura stretta a supporto dell'unica punto abbiamo un attaccante di sostegno che è già da diversi fm che funziona veramente bene le istruzioni che ha sono quelle di tirare di più fare contrasti più duri e marcatura stretta davanti abbiamo una punta completa dove sono andato a utilizzare principalmente manè anche se non è una vera e propria punta completa comunque le istruzioni che ha sono quelle di fare passaggi diretti fare contrasti più duri e marcatura stretta per quanto riguarda la mentalità abbiamo positiva in fase di possesso abbiamo un'ampiezza d'attacco abbastanza stretta si gioca la palla negli spazi si parte palla tra la difesa si vede passaggi poco più corti dal ritmo di gioco altissimo in fase di transizione ovviamente abbiamo fare pressing a tutto campo contro piede la si passa ai centrali difensivi calciando la corda per quanto riguarda la fase non possesso abbiamo una linea di pressing molto più alta con una linea difensiva più alta che fa il fuorigioco ampiezza difensiva standard che vi ripeto funziona meglio rispetto all'ampiezza difensiva stretta quest'anno si fa pressing estremo e si impediscono i passaggi corri del portiere quindi possiamo vedere che a livello tattico per quanto riguarda questa sezione non è troppo colma come tattica mentre a livello di istruzioni i calciatori devono fare diversi compiti nel corso della partita vi mostro com'è disposta in campo la squadra ovviamente in fase di non possesso siamo quella di sinistra come sempre sostanzialmente e possiamo vedere che i due centrali bene o male sono allineati assieme al terzino destro il terzino sinistro che in questo caso alfonso davis è già un po più prontato a supportare la manovra offensiva così come a centrocampo abbiamo una linea che non è perfettamente in linea tant'è che abbiamo il centrocampista di destra che rimane più basso mentre il centrocampista di sinistra rimane un po più alto ciò cosa significa che in questo caso siamo pronti a recuperare la palla e andare subito ad attaccare dalla parte di sinistra perché ovviamente da quanto si evince da questa immagine siamo più proiettati ad offendere su questa fascia piuttosto che nell'altra in più l'attaccante di sostegno in questo caso si è tolto dalla tre quarti per andare a creare superiorità numerica a centrocampo quindi sta dando una mano in fase difensiva è chiaro che poi quando si recupera la palla l'attaccante di sostegno è quel giocatore che si va a posizionare tra le linee per dare fastidio ai difensori avversari i due esterni sono bene o male stretti tant'è che sono già per vie centrali del campo visto che il loro compito è quello di tagliare in mezzo al campo e poi abbiamo la punta completa che rimane più bassa rispetto a un centravanti qualsiasi o addirittura un uomo d'area il cui baricentro rimane più alto quindi possiamo dire che in fase di non possesso lo schieramento da 4 2 3 1 passa a un 4 3 3 non completamente simmetrico arriviamo a vedere il calendario ad agosto siamo partiti subito forte vincendo il primo turno in coppa tedesca contro il bayreuth poi abbiamo vinto la prima di campionato contro borussia dortmund e abbiamo vinto la supercoppa contro il lipsa per poi arrivare a pareggiare le due partite contro il borussia mönchengladbach e il volsburg a settembre le parite sono state vinte tutte tranne quella di campionato contro il mainz ad ottobre abbiamo vinto qualsiasi partita giocata a novembre idem tranne la parita in champions league contro il marsiglia a dicembre abbiamo vinto tutte le partite a gennaio vinte tutte tranne il pregio contro il borussia dortmund a febbraio vinte 4 e perse 2 tra cui quella contro il paris saint germain e quella contro il colonia in bundesliga a marzo sono state vinte tutte ad aprile sono andato a utilizzare anche la seconda squadra quindi abbiamo il pareggio contro il vernel brema e il bayern leverkusen così come le sconfitte contro hoffenheim erta berlino e friburgo in bundesliga e coppa tedesca a maggio vinte due e persa una che era quella più importante ovvero la finale di champions league a livello di cammino possiamo vedere che in coppa tedesca siamo partiti al primo turno contro il bayreuth poi al secondo turno abbiamo affrontato il sconfitto il mainz per 4 a 0 al terzo turno passiamo ai tempi supplementari contro l'orstein kill ai quarti di finale battiamo per 4 a 0 il borussia monschengladbach in semifinale purtroppo perdiamo per 3 a 2 ai tempi supplementari contro l'hert di berlino coppa che alla fine viene alzata dal borussia dortmund il cammino in champions league parte dal gruppo f composto da celsi marsiglia e red bull di salisburgo passiamo con 5 vittorie un pareggio per un totale di 16 punti quindi 22 gol fatti e 5 subiti arriviamo quindi agli ottavi di finale troviamo il pari saint germain e passiamo con un 4 a 2 complessivo ai quarti di finale battiamo per un 7 a 4 complessivo il celsi in semifinale troviamo un'altra squadra inglese e la sconfiggiamo per 5 a 1 ovvero il tottenham in finale troviamo le tennesima squadra inglese che però ci sconfigge alla fine ovviamente come si può vedere non è stato un cammino semplice però l'abbiamo portato fino alla fine senza arrivare ad alzare quella coppa andiamo a vedere quindi gli highlights dove ci sono diverse partite dove abbiamo segnato tre gol e subiti due quindi partirei proprio dal vedere quelle ovviamente possiamo partire con la finale di champions league persa al cento ventunesimo come detto il liverpool trova il gol del vantaggio con nabikeita che si libera molto bene per vie centrali noyer non trattiene il tiro e quindi nabikeita porta vuota va a trovare il gol ciupo motting all'ultimo respiro riesce a creare un pressing efficace e andare a pareggiare poi al primo tempo supplementare c'è il gol del liverpool da calcio piazzato con diogo giota noi troviamo il pregio ancora con un ottimo pressing di ciupo motting poi allo scadere c'è l'espulsione di upa meccano e poi il liverpool che sfrutta così la superiorità numerica miller lì in mezzo va ad occupare molto bene lo spazio e a far alzare la coppa dei campioni alla squadra inglese passiamo poi dal 4 a 3 rifilato contro il celsi a stanford bridge questa volta siamo noi a passare in vantaggio con kimmich che recupera palla e va sull'auto di destra la mette in mezzo nabri dalla parte opposta riesce a insaccarla poi arriva la reazione del celsi con una papra clamorosa di neuer noi troviamo subito il gol del vantaggio con manè che la va scaricare a sanessia centra bene e calcia molto bene sul secondo pallo poi arriva il nostro terzo gol da calcio di rigore cantella passa a sterling che per vie centrali averze buca così la nostra fase difensiva e va ad accorciare le distanze poi noi scendiamo ancora dalla parte centrale con ciupo motting che trova il quarto gol il terzo gol del celsi invece arriva al settantunesimo con gallagher che la smista cantè dalla distanza trova ancora un neuer poco preciso l'ultima partita che vi vado a mostrare è il 4 a 4 contro il marsiglia così vediamo altri quattro gol fatti e quattro subiti passiamo ancora in vantaggio noi all'inizio con coman che dalla fascia sinistra trova in mezzo ciupo motting che dalla distanza trova una gran botta poi arriva la reazione del marsiglia con paolo lopez che lancia in profondità milica ancora una volta bucata la nostra fase difensiva e fa il gol del 1 a 1 poi c'è addirittura il 2 a 1 del marsiglia con veretù che la smista roger in mezzo per bacambu noi troviamo primo al pareggio con pavar che dall'auto di sinistra torna indietro da hernandez in mezzo per coman poi passiamo nuovamente in vantaggio con kimmich in bucata centrale sané la scarica nabri dalla parte opposta torna in mezzo a trovare manier che c'è quindi il terzo gol della partita 3 a 3 che arriva dalla parte di destra con gerson che la mette in mezzo per milic poi il marsiglia trova prima il gol del vantaggio con rangé che la passa ne magna in mezzo paier la va a scaricare a ne magna e trova un ottimo turno alla distanza nei minuti finali c'è il pareggio con sané che la mette in mezzo mané va da ciupo motting e c'è il 4 a 4 direi che pregi e difetti di questo modulo si possano trovare facilmente vedendo queste lights ovvero in fase difensiva avendo un doppio cc in mezzo al campo non fa troppo filtro e quindi si creano dei buchi in mezzo al campo dove gli avversari se sono bravi a sfruttare quegli spazi possono imbucarsi e trovare facilmente occasioni da gol in fase offensiva invece possiamo vedere che è una squadra che comunque tende a recuperare palla andare in avanti velocemente sfruttando prettamente le vie centrali del campo con la punta completa che è fondamentale per la manovra offensiva questo era il video che riguardava il 4231 Hyogus ovvero un 4231 composto da un giga impress efficace come si può vedere io spero che il video sia vi è piaciuto se è stato così lasciate un bel like commentate condividete ci vediamo nel prossimo video non mi date di lei e bella rega